Che gioco state giocando? Nessun gioco, generale. Abbiamo appena fondato la Repubblica di Salò, che sto per raggiungere. Ma che gli italiani, purtroppo, non sono come i tedeschi. Qui ognuno fa di testa sua. Per troppi secoli qua mancò un virile condottiero. Un virile condottiero? Ma i disertori saranno puliti. L'asse Roma-Berlino è un patto forgiato nel più puro acciaio. Un patto forgiato nel più puro acciaio. Il militare è votato alla pugna fin dal Romano Impero. Come il mio giovane figlio. Sono io! Vittorio, eroe di guerra. Salvò un camerata prigioniero armato solo di pugnale contro le soverchianti forze inglesi. Cosa ci fai qui adesso, piccolo Balilla? L'ho sentito figlio giovane e sto arrivando subito. Giovane figlio, non figlio giovane. Aggettivi, sostantivi, ognuno al suo posto, come soldati in marcia. E poi quante volte te l'ho detto? Non si dice sono arrivato subito. Sono arrivato subito. Le doppie, le consonanti, tutte le sillabe. Due ore di grammatica, 50 pressioni. Vai! Così mi dimagrisce pure un po'. Italo! Si chiama Italo. E sempre forza? Dai. Sempre forza? Milano. Vai. Mi raccomando le pressioni. Generale, sono un po' severo, ma la lingua è importante. Prima l'italiano. Dopo il tedesco, si deve.